grazie grazie mille grazie mille ea cinzia a cinzia franza associazioni color ed ora passiamo suppongo che anche qua abbiamo il supporto di slide ecco ora seguiamo sempre con altrettanto interesse l'intervento di lidia fubini centro di documentazione per la promozione della salute asle torino 3 regione piemonte storie di infortunio storie per prevenire sto già vedendo nell'etapo della prima slide ecco partiamo dal ruolo della narrazione dell'ascolto nelle strategie di prevenzione degli infortuni sul lavoro e anche nella promozione della sicurezza sul posto di lavoro prego buongiorno a tutti grazie sono l'ultima della giornata per cui cerco di fare in fretta per non annoiarvi troppo e vi presento un progetto che è un po diverso dal solito è un progetto che ha delle originalità ed è un po l'unico che si conosca che fa questo lavoro io rappresento un ampio gruppo di lavoro che è un gruppo multidisciplinare composto essenzialmente principalmente dai tecnici della prevenzione dai tecnici spresa di cui qualcuno è qui in sala anche alcuni miei colleghi e composto da un gruppo in cui sono presenti dei comunicatori e presente un ingegnere che è quello che aiuta ad analizzare gli infortuni sul lavoro è un progetto che si basa soprattutto sulla prevenzione io ripeterò questa parola molte volte mi dispiace annoiarvi ma lo scopo del nostro lavoro è arrivare a migliorare la prevenzione degli infortuni e le persone che hanno parlato prima di me soprattutto l'avvocato e la giudice hanno detto delle cose interessantissime e mi danno un po l'avvio a descrivere come invece noi abbiamo trattato diversamente lo stesso argomento cioè loro diciamo che sono quelli che raccolgono i cocci cioè che cercano di capire quali siano le norme che sono state violate quali sono loro cercano di definire quali quelle che sono le responsabilità chi è colpevole di cosa noi no noi noi non abbiamo avuto questo scopo lo scopo di questo lavoro è stato tutto diverso cioè quello di trasformare l'inchiesta infortunio che è quella che fanno i tecnici della prevenzione e i medici del lavoro e trasformarle in autentiche storie in cui la narrazione diventa lo strumento per migliorare e comprendere quali potrebbero essere le migliori strategie di prevenzione perché questo perché le inchieste infortunio fanno riferimento principalmente come si diceva a leggi normative che possono essere disattese le disattese leggi normative che riguardano macchinari riguardano dispositivi di protezione individuale non utilizzate utilizzati male mentre invece la storia riguarda la persona riguarda la persona come stava quella persona quando è andata al lavoro aveva fretta aveva freddo si sentiva solo aveva l'ansia quante cose una storia narrata può aggiungere per arrivare a comprendere meglio la causa dell'infortunio perché la cosa dell'infortunio non è soltanto sta sul tetto per senza le cinture di sicurezza e il chiedersi perché sta sul tetto senza la cintura di sicurezza quanta fretta aveva chi è che gli faceva fretta e quindi la storia narrata aggiunge degli elementi di contesto che normalmente nelle inchieste non vengono non vengono esaltati questa è una tabella sugli infortuni mortali in piemonte ma non non vi non vi tedierò con i numeri dall'ina il dicono che gli infortuni mortali sono sono diminuiti noi possiamo dire che non non ne siamo così sicuri comunque si i numeri dicono che i mortali sono diminuiti ma lo scopo del nostro lavoro è proprio fuori morti dalle tabelle noi cerchiamo proprio di fare il lavoro opposto cioè di dare voce ai morti nel senso delle loro famiglie nel senso di chi ha avuto il dovere di analizzare la loro morte e quindi noi più che altro abbiamo sentito il bisogno di raccontare il bisogno di essere ascoltati e quindi noi abbiamo lavorato sulla narrazione ben sapendo che la medicina narrativa è molto difficile da applicare alla prevenzione degli infortuni ed è per questo che voglio leggervi un un estratto di una di una delle nostre storie allora noi abbiamo pubblicato anche due libri che sono anche degli ebook dopo vi do il link comunque abbiamo anche qualcuno l'abbiamo dato alla dottoressa Chiado questo è quello più vecchio si intitolava vittime e vi leggo la storia di Matteo perché aggiunge molto a quello che potrebbe essere la ricerca delle cause per cui questo infortunio è accaduto questo l'hanno scritto due tecnici della prevenzione dello spresal della città di Torino Matteo è ora di partire ancora un concerto dopo l'altro un viaggio dopo l'altro la stanchezza che provo non deve fermarmi perché se voglio lavorare devo accettare le loro condizioni e non posso permettermi di rifiutare vorrebbe dire perdere il lavoro allora chi è Matteo? Matteo è un ragazzo molto giovane faceva rigger non so se tutti sanno cos'è un rigger i giovani sicuramente sì magari chi i meno giovani no sono coloro che montano e smontano le impalcature per i concerti i concerti i concerti i teatri soprattutto in questo caso è un concerto e questo povero Matteo sta lavorando per il concerto di Laura Pausini a Reggio Calabria e già dalla prima frase quella che ho evidenziato cosa fa pensare fa pensare che è sempre in partenza Matteo che c'è ogni sera fa un concerto quindi deve spostarsi da un posto all'altro continuamente e cosa dice dice la stanchezza che provo non deve fermarmi quanto stanco Matteo per dire una frase del genere e se voglio lavorare devo accettare le condizioni se no perdo il lavoro quindi quanta paura quindi quanto già solo da due righe vengono fuori la fretta l'ansia la paura e la stanchezza quattro cose molto grandi ma poi c'è la sua descrizione e si arriva al 5 marzo noi abbiamo definito in tutte le storie un punto che abbiamo chiamato a un certo punto e in questo caso il 5 marzo loro arrivano al palazzetto che si chiama il Palacalafiore di Reggio Calabria dove appunto avrebbe dovuto esserci il concerto di Laura Pausini un palco da montare da zero in tempi stretti siamo in molti a lavorare 150 persone locali per il montaggio tra cui rigger facchini tecnici tecnici audio tecnici luce elettricisti iniziano a montare il palco loro sono abituati a fare questo lavoro e montano sulla struttura portante dei motori pesantissimi che fungono da basi agli amplificatori e al materiale illuminotecnico gran parte della struttura a un certo punto è montata fanno due chiacchiere come sempre per rendere meno faticoso il lavoro e poi a un certo punto c'è un istante un attimo un solo un secondo per capire che qualcosa non sta andando come dovrebbe vedo i miei colleghi scappare sento le urla ma non capisco da dove provengono e a chi sono rivolti corro pur non sapendo cosa sta succedendo ma in quel secondo non penso da che parte andare corro è un istante un istante dopo il buio ho scelto la direzione sbagliata succede che tutta la struttura cade addosso a Matteo ed è l'unico degli operai che muore è un rigger giovanissimo perché muore perché sono troppi 150 perché c'è confusione perché sono stanchi perché non si capiscono non si parlano non si sentono uno urla e non si capisce che cosa ha detto ma poi andando invece a vedere le responsabilità si scopre che addirittura la pavimentazione dove avrebbe dovuto essere montato questo palco non era adatta a sostenere una struttura così pesante come quella che i rigger avrebbero dovuto montare per cui quante cose vengono fuori da qualche semplice frase e poi questa storia è stata raccontata da un tecnico della prevenzione perché ovviamente Matteo è morto e non poteva raccontare la sua storia sono queste due persone che si sono immaginate che cosa Matteo può avere pensato durante la storia durante il suo gravissimo infortunio Matteo non doveva morire nessuno deve morire sul lavoro ma noi abbiamo scritto questo questo l'ho trovato in vittime tutto il racconto abbiamo chiamato vittime intendendo come vittime sia i morti e gli infortunati sia i tecnici della prevenzione perché anche loro sono delle vittime nel senso che loro vengono formati per capire le parti tecniche ma non vengono formati per gestire la loro emozione la loro emotività eppure a volte sono i primi a dover intervenire sul luogo di lavoro sono i primi a dover vedere un morto prima ancora che arrivi il 118 la polizia quindi sono vittime anche loro perché loro fanno un lavoro che non è solo quello di definire le cause fare l'inchiesta infortuni è una cosa anche molto che causa molta molta emozione ecco perché abbiamo usato la narrazione in prevenzione perché pensiamo che la narrazione aggiunga degli elementi di contesto che aiutano a ricordare e anche a trasmettere significati sugli eventi umani oltretutto è molto più semplice leggere una storia infortunio che non leggere un'inchiesta per cui le informazioni sono molto più più vivide più persuasive e soprattutto questo noi insistiamo molto permette di individuare dei fattori di contesto dei fattori organizzativi che spesso non sono normati e che invece descrivono molto meglio la dinamica di un infortunio questa è un'altra storia si intitola ora sto bene sono pulito da due anni è la storia di Paolo questo Paolo era un ragazzo che aveva avuto dei problemi di dipendenza aveva avuto dei problemi di dipendenza ci aveva messo un paio d'anni a disintossicarsi nel 2008 aveva una grandissima voglia di riprendere una vita normale di riprendere un lavoro e quindi si mette a lavorare in una piccola azienda di manutenzione del verde ecco la storia era una fredda mattina nel novembre 2008 la neve faceva presagire una dura giornata in quella villa in Brianza Paolo e Matteo avevano iniziato alle 7 di buon mattino Matteo 28 anni titolare dell'azienda di manutenzione era contento di avere una volta tanto un collega col quale poter chiacchierare lo aveva raccomandato la scuola agraria ha avuto una vita difficile ma ce la sta mettendo tutta dagli una mano perciò gliel'avevano raccomandato in effetti Paolo era un gran lavoratore e soprattutto era motivato aveva una gran voglia di fare e quindi Matteo che era stanco di lavorare da solo si era fatto convincere e allora quanti fattori di contesto emergono allora intanto faceva un freddo cane e avevano anche molta fretta perché avevano paura che si mettesse a nevicare Matteo il titolare era abituato a lavorare da solo quindi aveva l'abitudine ad arrangiarsi e non prestare attenzione all'area di manovra e soprattutto non avendo colleghi non era abituato a comunicare il Paolo da parte sua è il suo primo giorno di lavoro quindi deve fare questo stage ha un'ansia da prestazione oltretutto non sa fare il lavoro perché non è stato formato e che cosa succede? succede che praticamente Matteo che è il titolare dell'azienda stava manovrando stavano sfalciando questo verde in questa azienda in questa villa in Brianza e dovevano tagliare un albero dovevano tagliare un albero e raccolgono questo tronco con una non so bene come si chiama comunque con una specie di di gru e questo 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 Matteo non si accorge che la gru sta basculando sul terreno purtroppo Paolo che non sa che cosa deve fare non si accorge non capisce non lo sa se è normale che la gru stia basculando come come non è la sfortuna ha avuto la meglio cade il tronco proprio in testa a Paolo e purtroppo lui muore quante cose comunque anche solo da una storia vengono fuori allora Paolo nella sua inesperienza non sapeva cosa fare non sapeva dove andare ma Matteo che era il titolare che era abituato a lavorare da solo non comunica non gli dice neanche Paolo spostati aiuto attenzione non gli dice proprio niente non comunica e soprattutto non mette ci sono delle norme che regolano questo per cui nell'area di azione della gru non ci devono essere persone ci devono essere delle transenne che dividono un'area da un'altra quindi da una semplice storia vengono fuori moltissimi elementi di contesto che potrebbero aiutare a migliorare le strategie di prevenzione ecco perché abbiamo pubblicato questo primo libro Vittime che è una raccolta di di racconti e proprio abbiamo ricevuto questo libro lo trovate a questo indirizzo è diventato un ebook in pdf e potete leggerlo tranquillamente gratuitamente senza password abbiamo anche pubblicato un secondo libro che abbiamo definito invisibili lo trovate a quest'altro indirizzo anche lui in pdf gratuitamente qualche copia gira invisibili perché perché spesso come si è detto tante volte stamattina ci dimentichiamo ci dimentichiamo succede una tragedia e ce la dimentichiamo e infatti sono molto contenta di essere qui a ricordare le ragazze morte cento anni fa perché in cento anni io devo dire la verità mi era stata raccontata ai tempi delle medie che era successa questa cosa ma poi chi ci ha più pensato e quanti invisibili ci sono nel mondo tantissimi e non soltanto quelli che sono stati poi molto celebrati come la Thyssen come altri altri infortuni particolarmente gravi ma ci sono tanti invisibili anche tra i lavoratori non convenzionali tanti morti tra i lavoratori che non hanno un contratto pensate al bonus che hanno fatto per la ricostruzione delle case costruire i cappotti pensate il bonus quanta gente ha tirato su per costruire delle cose ristrutturare case in pochissimo tempo con pochissimi 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 soldi e quante persone sono state tirate su senza contratto senza formazione di nazionalità impossibili che non riescono a comunicare tra loro perché parlano lingue diverse e quanti morti ci sono stati cadendo dai tetti cadendo dai ponteggi ho finito grazie chiedo scusa chiedo scusa Lidia Fubini ma abbiamo delle necessità che alcuni hanno poi dei treni da prendere ma è proprio chiusa qua grazie grazie infinite era solo una riflessione grazie infinite Lidia Fubini per il suo toccante intervento e io proporrei colgo l'occasione dalla narrazione delle storie di Matteo e di Paolo di fare un applauso in memoria di tutte le vittime di infortuni sul lavoro grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti